Benvenuti a tutti ad una nuovissima puntata di Fanny Moon sempre con la Franceschina e Ettore sempre qui al Big Muff perché ormai è diventata tappa fissa, l'avete già visto e lo rivedrete ancora e ancora e ancora. Sì perché come avrete notato da ormai da un po' di tempo le nostre aperture e chiusure di puntata saranno sempre qui al Big Muff quindi se ci volete venire a trovare sappiate che ci trovate. Se volete offrirci una birra volete farvele offrire vediamo in base alle disponibilità chi più chi meno. Le possiamo offrire però solo se indovinano quando facciamo i questionari che ogni tanto buttiamo lì. Quale è quello di oggi? Quello di oggi poi lo saprete a fine puntata. Se indovinano avranno una birra offerta da noi di Fanny Moon nella prossima puntata. Al Big Muff. Esatto. Certo 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 ma parte comunque questa nuova puntata a noi ci tocca dare. Lunghissima puntata eh. Dobbiamo dirlo dove avversiamo. Sì però non possiamo manco spodere niente perché sennò alla fine non vale manco la pena di stare connessi con noi. Dico connessi perché? Perché? Perché possono essere connessi attraverso la tv possono essere connessi anche in un'altra maniera. Con il web quindi cercate la nostra pagina di Facebook Fanny Moon mettete un bel pollicione mi piace perché così potete essere sempre aggiornati dove saremo e tutti i nostri servizi che cosa faremo nell'immediato. O quelli che vi siete persi non avete chiesto. Noi pubblichiamo comunque tutto il letto ogni volta che. Oppure il canale YouTube. Ve lo perdete trovate là. Anche su YouTube. Potete iscrivervi perché anche lì troverete tutte le nostre puntate tutti i nostri servizi compresi quelli fatti qui al Big Muff. Quindi non avete scusanti. Non avete proprio scuse. Chissà. 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 Se prima o poi faremo anche dei casting qua dentro no. Ormai ci abbiamo una sede lo possiamo dire. Quale miglior posto davanti a una birra andate bene tutti. Quindi perché non proporvi. E come fate a proporvi oltre ai nostri social che abbiamo detto a cosa servono. Come fate a proporvi per un casting se volete essere nuovi volti o nuove mani come si dice operanti. Operatori nel settore. Sì no come come mano d'opera. Oh ecco non l'ho trovata come mano d'opera. Sempre per l'Accademia. Per far andare avanti la baracca. L'Accademia della Baracca. Oggi facciamo una nuova accademia. Ma sentite l'Accademia della Baracca. Comunque come fate con il numero in sovraimpressione. Vabbè. Che vedete lì sotto. Che c'è scritto 3338693. Mandateci un sms oppure un whatsapp. Visto che ormai stiamo migliorando con la tecnologia. Presto avremo anche. Il whatsapp l'ha inventato di povent'anni fa. Ma noi vabbè. E poi non andrà più di moda addirittura instagram avremo anche quello. Però per adesso. Ancora va di moda quindi non lo possiamo usare. Non si può fare. Bene quindi se avete questa voglia di diventare il nuovo volto di Fanny Moon noi faremo tante facce da casting si dice così. Sì anche qua. Anche qua al Big Muff. Non solo avremo anche un altro locale dove poterlo fare però per adesso. Chissà. Chissà. Lo vedrete sicuramente in puntata quale sarà il nuovo locale dove faremo il casting di Fanny Moon. Però ricordiamo sempre che qui abbiamo la vereggina quindi. Sotto il mio controllo dovete passare indiscutibilmente. Quindi poi si vedrà. Amici da casa la puntata come dicevo prima. È pregna. È pregna. Incominciamo con la nostra parolina magica che diremo tra pochissimo. E diamo il via. E diamo il via alle danze e soprattutto ai casting. Yes. Quindi. Sommario. E diamo il via.